Dopo il flash mob di ieri sera, questa mattina i gestori dei locali salerintani hanno consegnato le chiavi dei loro esercizi al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha accolto a Palazzo di Città, insieme all'assessore al commercio Dario Loffredo, il presidente generoso russo ed il vicepresidente Paolo Riccelli dell'ACS, l'associazione commercianti per Salerno. In un clima di cordialità, comprensione reciproca e di massima collaborazione, le parti si sono incontrate per la consegna simbolica delle chiavi e per provare a trovare soluzioni ed idee che, nell'immediato, possano dare respiro al commercio ed in particolare al settore della ristorazione, rimasto fermo per oltre un mese e mezzo ed ancora lontano dalla vera e propria ripartenza. L'assessore al commercio Loffredo ha dato ai vertici dell'ACS la massima disponibilità ad ascoltare esigenze e proposte dei gestori dei locali. Sgravi fiscali ed aumento della superficie, laddove possibile, su cui disporre tavoli per accogliere i clienti, sono le prime proposte che da Palazzo di Città sono state avanzate. Dopo il via libera la consegna a domicilio, ora si attende la fase 2 quando sarà possibile anche l'asporto, mentre solo dal primo giugno dovrebbe essere consentito accogliere i clienti all'interno dei locali con tutte le precauzioni del caso. Grazie al sindaco, al collega Salastano e a tutti i colleghi dell'Aggiunta stiamo prendendo dei provvedimenti come amministrazione su quello che possiamo fare. Sicuramente bloccheremo la TOSAP in attesa che il governo, poi il sindaco, sofficieremo il governo. Al momento la posticipiamo assolutamente e poi abbiamo lanciato quest'idea che è stata ricevita. e ringrazio il sindaco e i colleghi di giunta che la settimana prossima andremo ad approvare di dare la possibilità di allargare i posti a sedere, come mai ce ne fosse la possibilità tecnica, per dare la possibilità a voi di mantenere il distanziamento sociale ma avere più posti a sedere. Quindi tutte quelle norme, disposizioni che noi come Comune possiamo adottare, lo faremo, lo faremo con senso di responsabilità, nel modo più assoluto, perché ritengo, sindaco e mi posso permettere, la categoria che umilmente rappresento insieme a quella del turismo è stata quella più punita, colpita, punita, voglio dire brutto perché siamo in una situazione di pandemia e quindi chiaramente la salute va tutelata, però devo dire che leggendo anche le misure nazionali, ad oggi non è arrivata, non voglio fare chiaramente il politico di livello nazionale, però tutti quanti abbiamo il piacere di coscienza, di stare vicino, ad oggi non è arrivata ancora la cassa integrazione che doveva arrivare, speriamo che arrivi a maggio, quindi mi metto anche nella, mi compenetro con i dipendenti che ad oggi voglio dire devono portare il pane a casa ed altro.